Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario, tendenze. Grazie, abbiamo una bellissima ruota della fortuna per l'amore nella seconda metà di marzo. Per l'amore no, per quello che riguarda le relazioni affettive. Diciamo che a me piace intendere questa lettura proprio come se fosse una lettura sugli affetti in generale più che sull'amore. Poi vediamo che cosa dicono i tarocchi. Ma in linea di massima con l'arcano della ruota della fortuna ci sono grossi cambiamenti in vista, opportunità che arrivano, cambi di cicli anche perché la ruota della fortuna comunque è un arcano numero 10 e di conseguenza fa riferimento alla chiusura e all'apertura dei nuovi cicli. Come dico sempre ragazzi, le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se proprio non riusciste ad applicare la lettura alla vostra realtà o se semplicemente voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Ruota della fortuna un'altra volta. Trovate il link al video corso gratuito di tarocchi e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarvi. Bene, iniziamo con un 4 di spade, un fante di coppe, un 4 di coppe, un asso di coppe, al contrario, una ruota della fortuna, un 6 di bastoni e un 8 di bastoni e un 6 di coppe. Allora, devo dire che si inizia con questo 4 di spade, quindi probabilmente qualcuno o in una fase di riposo dove si sta prendendo un periodo magari anche dalla relazione, sta di fatto che è una carta che indica il fatto che o c'è stata o c'è la necessità di ricaricare le pile, proprio anche da un punto psicologico, non solo fisico. Il fante di coppe è una carta che potrebbe rappresentare una persona nuova, ragazzi, e da lì la ruota della fortuna secondo me prenderà inizio, inizierà a girare. Per qualcuno potrebbe anche rappresentare un figlio però, quindi poi ognuno di voi lo applichi alla propria realtà, però diciamo che se fosse una persona nuova o una persona che viene a farvi una proposta, che viene a offrire qualche cosa, ho la sensazione che siate voi in realtà a non prendere in considerazione questa persona, a non credere possibile l'inizio di un amore con questa persona. Andiamo poi a vedere meglio con i tarocchi, con i mini tarocchi perché. Nella seconda parte della lettura, ragazzi, le cose cambiano. Abbiamo infatti la ruota della fortuna, quindi è come se si aprisse un nuovo ciclo, si aprisse un nuovo ciclo di vita, un nuovo momento carmico, da cui arriva l'otto di bastoni che parla di comunicazioni che arrivano, di notizie, di novità e anche di viaggi e il sei di coppe potrebbe fare riferimento a qualcuno del passato. Qualcuno del passato, sì, magari è qualcuno che non vedevate da tempo, ma normalmente quando c'è se di coppe non è mai un ex, è una persona con la quale non c'è stato un rapporto intimo, per capirci. È una carta che parla di amore platonico, quindi può essere che ci sia qualche tipo di cambio a livello di energia, proprio perché potrebbe arrivare una persona magari che è da tanto tempo che non vedete, può anche essere un parente, può essere un figlio, come vi dicevo, c'è comunque questo asso di coppe, se fosse che non volete, se per esempio fosse un figlio e non una persona, l'asso di coppe al contrario potrebbe rappresentare il fatto che la situazione magari di lontananza di questo figlio vi causi, insomma, un certo peso a livello emotivo. Andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere quattro di spade. Abbiamo un 5 di bastoni e un 3 di coppe. Può anche essere che ci sia stata qualche discussione, magari con un amico che vi ha un po' messo in questa condizione di 4 di spade, di ritiro, di meditazione, di allontanamento, insomma. Andiamo a vedere il 5, scusate, il fante di coppe. Stavo guardando quel 5 di bastoni. È un po' come se qualcuno si fosse stancato di discutere. Allora, per il fante di coppe abbiamo la carta del mago e un 2 di coppe. Allora, siccome quando c'è un fante, soprattutto quello di coppe, si parla di una persona con molto entusiasmo, si parla di una persona aperta di cuore, disposta a venirvi incontro, ma si parla anche di una persona che, facendosi prendere di faccia gli entusiasmi, è facile che non mantenga poi quello che promette. E ho come la sensazione che questa persona per adesso non voglia compromettersi e non voglia iniziare niente di nuovo. Potrebbe essere la vostra energia o quella dell'altra persona? Adesso lì dipende dalla situazione personale di ognuno. Andiamo a vedere questo 4 di coppe. Abbiamo un asso di bastoni, il papa e la forza. Allora, ho come la sensazione che non abbiate il coraggio di fare il primo passo con questa persona. Ripeto, è come se non vedeste l'opportunità, è come se non vedeste la possibilità di rendere concreta, di fare un passo avanti con questa persona. Forse proprio perché anche voi percepite che si è magari fatta prendere dei facili entusiasmi e non... È come se non prendesse posizione. Possiamo fare questo, possiamo fare quell'altro, possiamo fare quell'altro. Sai, se dovessimo, non lo so, andare in montagna insieme e voi dite, sì, va bene, dammi una data e lo facciamo. E questa persona non vi dà la data, non fissa. E qui anche un po' il... Ok, probabilmente non riconosco il valore di questa relazione o di quello che potrebbe diventare questa relazione. Per qualcuno si tratta di non essere visti. È come se l'altra persona avesse tante idee comuni senza appunto prendere posizione, però in realtà queste idee comuni fossero solo idee sue. Nel senso che voi non venite presi in considerazione o come questa idea. Mentre voi, invece, vorreste fare qualche cosa attivamente per uscire da questo momento. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Abbiamo un set di pentacoli. La stella è un tre di bastoni. O come è la sensazione che qualcuno sia... Difatti il quattro di coppe è una carta che parla di una persona... Anche il quattro di spade. Sono due carte, diciamo, di fermo, se vogliamo. E qui, quello che un po' secondo me vi frega è l'indecisione. In effetti, con la carta della forza, vediamo che ci sarebbe la necessità di prendere una decisione, ma non sapete bene da che parte andare. Ho come la sensazione che siano due momenti diversi. Adesso andiamo a vedere poi questo sei di coppe chi è o che cos'è o cosa rappresenta, ma ho come la sensazione che siano due momenti diversi. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. Otto di pentacoli al contrario, dieci di coppe e tre di spade. Qualche tipo di equilibrio probabilmente pratico cambierà o all'interno della relazione, o all'interno della famiglia, o all'interno di questa dinamica. Tenete presente che quando c'è la ruota della fortuna, normalmente sono eventi fortunati, eventi che portano abbondanza, eventi che portano a cambi positivi. Può essere che dobbiate passare attraverso questo tre di spade, quindi potrebbe esserci della sofferenza, perché comunque per qualcuno potrebbe essere un cambio di lavoro, per migliorare il benessere della famiglia, però ho come la sensazione che sia un dolore, diciamo una sofferenza da distacco necessaria per far avvenire la ruota della fortuna. Sapete che comunque ogni volta che c'è un cambio c'è una piccola morte, quindi c'è anche una sofferenza. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. regina di bastoni, che potrebbe essere la persona che arriva, e due di spade. O potrebbe essere la persona che vi comunica l'arrivo di questo sei di coppe. Andiamo a vedere il sei di coppe. Asso di pentacoli e tre di bastoni. Wow! Allora, la regina di bastoni potrebbe appunto rappresentare la persona che fa la comunicazione e potrebbe comunque coincidere con la vostra persona di interesse. Sento che è una persona diversa da quella della prima settimana, della prima energia, diciamo, della terza settimana. Ho come la sensazione che questa persona sia già nella vostra vita e se per caso è da tanto che non avete nessuno, è un po' come la vostra reticenza se vogliamo a prendere accordi, ad aprirvi, a buttarvi nella mischia, mi viene anche un po' da dire. Nella seconda parte, invece, appunto, se siete single, questa regina di bastoni potrebbe essere una persona che entra, nuova, una persona che arriva da lontano, o tre carte di viaggio, ragazzi, o la ruota della fortuna, quindi potrebbe essere una persona che arriva anche proprio fisicamente da lontano, come luogo fisico, o lontano nel senso di tempo, lontano nel tempo, e comunque anche la ruota della fortuna è associata ai cicli carmici al tempo. E sento che con questa persona, avendo l'asso di pentacoli e il tre di bastone, c'è la possibilità di fecondare un seme, di espandersi, di andare verso nuovi orizzonti, perché l'asso di pentacoli è comunque quella carta che parla di nuovi percorsi, di nuove strade che si aprono, di doni, anche doni psichici, alle volte, e visto che il 6 di coppia è collegato anche ai sogni che si fanno quando... Ecco, per qualcuno può essere l'avvio, la realizzazione del proprio sogno. Nel senso che magari questa persona davvero potrebbe rappresentare quello che per voi è l'ideale di uomo o di donna, insomma. E fortemente potrebbe essere qualcuno... qualcuno del passato. Guardate, se fosse, per esempio, perché per qualcuno potrebbe anche risuonare come la stessa energia, in effetti. È come se qui aveste preso a distanza da questa persona e messo i paletti. Quindi dobbiamo arrivare ad un compromesso perché ho bisogno di sentirmi ufficiale, di sentirmi riconosciuto o riconosciuta, perché così non riesco ad andare avanti, non è quello che voglio io, non è il mio obiettivo. così non riesci a sbocciare l'amore. E con la ruota della fortuna, se fosse la stessa persona, può essere che la dinamica cambi. Ok? E che un sogno, appunto, che avevate nel passato inizi a prendere forma. Wow, che bello. Andiamo a vedere con gli angeli del cuore un messaggio. Grazie. Wow! Relazioni delle vite passate, due volte la ruota della fortuna e il 6 di coppe. Fatemi vedere che figure ci sono. C'è un 2 di coppe. Però, ragazzi, potrebbe essere tranquillamente qualcuno con cui avete già vissuto una vita passata, insomma. Fatemi sapere nei commenti se per voi sono due situazioni, cioè, potrebbero essere, perché giustamente ancora non lo sapete, però se potrebbero essere due situazioni diverse o se comunque per voi rappresenta una persona nello specifico, tutto questo movimento energetico. Andiamo a vedere ancora due koan, due frasi di meditazione, due frasi zen. L'acqua è un'essenza. Diventa latte se la beve una mucca, veleno se la beve un serpente. Mi parlano di informazione. In questo caso, sostituite la parola l'acqua con informazione. L'informazione è un'essenza. Diventa latte se la beve una mucca, quindi è buona se, diciamo, è elaborata, è interiorizzata da una persona che ha una capacità visiva buona, una capacità di vedere le cose positiva, e diventa veleno se la beve un serpente. Con la stessa informazione, se una persona ha un modo negativo di vedere le cose, la stessa informazione può essere vista in modo negativo, può essere visto il lato negativo di quel tipo di informazione. Vabbè, qui avete un 5 di bastoni, quindi, attenzione sempre a chi vi dice che cosa. Ok? perché molte persone parlano solo perché sanno che suscitano certe reazioni in voi. E i semi del passato sono i frutti del futuro. Guardate, vi metto qua vicino l'asso di denari e il 6 di coppe. Ve lo metto qui. Quindi, è come se ci fosse una relazione, un qualche tipo di scambio che avete effettuato nel passato, un qualche tipo di legame genuino che avete instaurato nel passato, che è come se adesso a marzo, a fine marzo, inizio aprile, iniziasse a mettere radici. Cari amici del Sagittario, questo è quello che ho per voi. Fatemi sapere se la lettura vi risuona, se vi è piaciuta potete mettere like, potete iscrivervi, potete condividere, commentare, ogni tipo di aiuto per me è molto importante e di fatti ringrazio tutte le persone che supportano il canale. io vi auguro il meglio, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!